Ragazzi mancano più o meno 20 secondi all'ultimo pacchetto, all'ultimo gioco di quest'anno del 30 dicembre e speriamo tanto che sia veramente un bellissimo gioco, vado speriamo, speriamo per favore, speriamo dai ragazzi 5 secondi, 5 secondi, 4, 3 e buon anno, 2, 1, speriamo Cos'è? Cos'è sta roba? Mi stavano indefinito in disco, che cos'è? Che gioco è? Cioè questo gioco è uscito nel 2015, no uscita iniziale, data di uscita, va bene Ovviamente questo è il nostro ultimo gioco e niente, quindi vabbè, vabbè, guardate tutti per questa versione ragazzi Questo è il regalo, questo è il regalo, mi aspettavo, che ne so, Metro Exodus Epic Games, gratuito Che è un giocone della madonna, anche se io ce l'ho comprato, vabbè Vabbè ragazzi, grazie a tutti per questa versione e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao